N4 ed è un Caterfillar da 15 totellate 15 totellate, vogliamo fare un applauso ad Armando che adesso vi farà vedere cosa si può fare con un pezzo così pesante e davvero poco versante guardatelo qua, allora, grazie allora avete problemi di spazio a caso, giardino stretto, dovete metterlo a posto Armando viene, su commissione, entra a due ruote, non ve ne accorgete neanche quindi naturalmente per i cattivi più piccoli ha il Caterfillar il Caterfillar più derido, poi l'Occidento piccolo 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 va bene, grazie Armando che tanto ce lo teniamo lì sullo sfondo Armando vi raccontiamo anche un po' di cose perché Radio DJ è presente al Motolive come radio di supporto di tutto l'evento noi tra i ventieri siamo qua sul palco, in periodo di appena domenica ovviamente ci atteneremo con gli speaker tecnici che invece entreranno nello specifico sulle discipline, ci saranno qua al Motolive dietro a noi, dietro al palco ci ha posizionato il nostro studio e ci non riuscivono